La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha emesso una sentenza rivoluzionaria. Da oggi in poi, i giudici dovranno tenere conto anche del periodo di convivenza precedente al matrimonio ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio. In buona sostanza, il conige che richiede l'assegno deve dimostrare di aver fornito un contributo importante alla crescita umana e professionale dell'altro, anche attraverso i propri sacrifici e le proprie rinunce. Uno dei criteri per determinare l'assegno di divorzio, infatti, è la dimostrazione dei sacrifici e dell'impegno del conige economicamente più debole. Ciò significa quindi che anche la convivenza non può essere più considerata terra di nessuno, ma deve essere considerata un periodo importante per la formazione di quella coppia e di quella famiglia. È una sentenza importante perché proietta l'Italia in Europa.